Uesa, Eugenio, e dai, questa etica da scuola superiore di periferia sul conflitto di interessi, ma quanto ne state dicendo? Ma che cos'è questa battaglia sul conflitto di interessi? E poi, da gente di spessore come voi, da fini pensatori, mi aspetto un po' di sfumatura, un po' di pensiero laterale, un minimo di pensiero originale, invece mi ritrovo a ascoltare un discorso di basso cabotaggio, insomma, cos'è il discorso di basso cabotaggio? Non so se si dice così, ma avete capito? Ah già, scusate, non è un discorso tra me, Ues e Eugenio, se non lo potevamo fare in privato, ma un discorso pubblico, un cerco con questo video di partecipare a un dibattito pubblico sul conflitto di interessi. In realtà avevo già messo l'orecchio sul tema perché nel mondo del anime, One Piece, manga, si stava parlando di questa cosa, ma ho visto che ne ha parlato in più puntate anche Uesa insieme al suo socio Eugenio. Ho visto che hanno interpellato da Rio Moccia sulla questione, hanno detto loro delle questioni, hanno intervistato Mr. Rip sulla questione, insomma, in poche parole cosa sta succedendo? Niente, Uesa Channel e Eugenio stanno facendo del basso populismo. Ora il mio sembra un attacco, in realtà sono un grande stimatore di Uesa, uno dei migliori content creator in assoluto, però il discorso che sento fare, seppur ovviamente eccellentemente spellingato dal eloquio di Uesa, al livello del contenuto è un po', secondo me, poco rilevante, un po' marginale, un po' non da Uesa. Loro stanno dicendo una cosa che mi sembra che è banale, e cioè che un recensore di film, di sede tv, o un pensatore, un opinionista in un determinato campo, se collabora con dei brand, con delle aziende in quel campo, è il conflitto di interessi. È ovvio che se viene detto, viene detto con un'accezione negativa, nel senso che Uesa e Eugenio stanno dicendo, se tu mi parli di videogiochi e sei dentro l'abbraccio di case videoludiche, di brand videoludici, tu, puoi essere recensore quanto ti pare, ma la tua opinione è sicuramente cambiata da questo rapporto. Non è un'opinione genuina. Quello che dici non è più genuino perché inevitabilmente devi andare a compromessi con le aziende che ti permettono di tenere su, a livello diciamo di business model, il tuo progetto di content creator, di streamer, di youtuber, chiamiamolo che voglia. Ora, a parte la definizione, ripeto, un po' bambinesca di conflitto di interessi, e cioè quando sussiste un rapporto economico con un'azienda all'interno del settore di cui ti occupi, nel quale esprimi opinioni, se fosse così semplice, tutto risolto, io credo che il conflitto di interessi sia un'altra cosa. Declinarlo in questo modo meccanico, da dizionario, mi sembra riduttivo ed inutile. C'è un piccolo grande equivoco di Eugenio Euesa su questo tema, è che loro attribuiscono ai content creator che esprimono un'opinione sulle cose, l'attributo di recensore. E a questo punto sì, se i content creator fossero anzitutto, e non solo, recensori, la ricerca della loro onestà intellettuale sarebbe più complicata davanti a una collaborazione con le aziende del settore di cui si occupano. Ma il content creator, amici miei, mi dispiace dirvelo, non è un recensore. Il content creator è un promoter. L'attributo di recensore, per quanto spetti anche ai consumatori che lasciano le recensioni su TripAdvisor, su Google My Business, sugli Help, per quanto l'attributo di recensore spetti a chiunque, quando si parla di recensioni in alcuni mondi, per essere recensioni non basta fa una recensione. Ci servirebbe innanzitutto un riconoscimento dei tuoi pari riguardo a questo, la partecipazione a determinati contesti, alcune pratiche che si devono svolgere, alcune azioni che si devono fare, ma anche non andando così a fondo, comunque io non vedo lo youtuber come un Gianni Canova che scrive la recensione di un film per la rivista che era notturno dove scriveva. Io vedo il content creator più come un venditore di auto, cioè quando tu vai dal venditore di auto e il venditore ti descrive le caratteristiche dell'auto e prova a vendertela, nessuno rimprovera al venditore di auto di essere in conflitto di interessi con Fiat, Mercedes, eccetera. Tutti si aspettano che il venditore di auto ti venda, provi a venderti l'auto. E proprio in virtù di questa consapevolezza incredibile che si ha quando si andano in salone per comprare una macchina che tutto è piuttosto cristallino e tutto piuttosto trasparente, anche davanti alla performance del venditore che cerca di saltare le caratteristiche migliori per te che sei lì davanti delle auto che sta vendendo. Ci si può sorprendere davvero che un piccione salga sul tavolo mentre stai facendo lo spritz e dire questo piccione è cattivo, è salito, il piccione, il venditore d'auto fa il venditore d'auto, lo youtuber fa lo youtuber, ergo il promoter. Perché la maggior parte degli youtuber trovano sostentamento, quelli ad un certo livello, dal fare promoter, dal vendere prodotti e servizi, molto spesso ovviamente nel campo del quale si occupano. Perché è ovvio che se sono un'azienda di videogiochi chiederò al migliore dei gamer di vendere il mio videoccioco, di parlarne bene, è una banalità. E quindi non può essere, non c'è un conflitto di interessi tra il content creator e l'azienda, perché quello è il ruolo, cioè c'è l'interesse, non il conflitto di interessi. Al contrario, se usciamo fuori dalla visione didascalica infantile, di conflitto di interessi, che sussisterebbe solo e soltanto quando c'è un rapporto economico con un'azienda del settore del quale ti occupi a livello di produzione contenutistica, se usciamo da questa visione infantile, io imputo un vero conflitto di interessi, quello che hai, che un content creator ha con il suo pubblico. Quello sì che cambia l'opinione e il modo di esposizione del content creator. E non è trasparente come il rapporto con l'azienda che, se uno rispetta un attimo le normative, deve dichiarare, dicendo ADV, collaborazione, partnership, gifted, supplied, tutte queste formule che esistono per segnalare il tipo di collaborazione che c'è con l'azienda. Quindi come fa a esserci un conflitto di interessi con l'azienda? Quella è proprio l'azione che lo youtuber deve fare. Il venditore di auto che vende l'auto, come se tu entri al salone e il venditore auto ti dice solo, ah, levai un caffè? Ora vada, guardi pure le macchine. No, quello non è il suo lavoro, no, non è quello. Quindi non funziona così. Invece il content creator, il vero conflitto di interessi che non emergerà mai e cambia sensibilmente il rapporto del content creator con il suo contenuto, con il suo pensiero e con il pubblico, è quello con il pubblico. Io che conosco molto bene, quando ero attivo conoscevo molto bene il mio pubblico, sapevo esattamente che una cosa è detta in un modo piuttosto che un altro, come i burrattini, muoveva i commenti, muoveva i follower, gli faceva fare una cosa piuttosto che un'altra ancora. Come ovviamente alcuni content creator sanno bene che la loro opinione riguardo una cosa odiata dalla loro community debba rimanere una... quando si esprime la critica aspra su quella cosa è concessa e invece la critica, possiamo dire così, positiva verso qualcosa odiato al loro pubblico è sbagliata e quindi ci si comporta di conseguenza. E lo possiamo vedere in mille situazioni particolari e anche più generali. Potrei fare tanti esempi, però voglio fare il diss solo a Wes Eugenio, se inizio a parlare di altri youtuber dopo il dissing si sfalda, non mi piace più. Quindi io voglio ricordare a tutti voi, anche a Wes Eugenio, che lui una volta, me lo ricordo perché gli commentai il video, non è l'unico che l'ha fatto. Io apro Patreon per essere libero dall'influenza delle aziende e dei brand. col vostro sostegno non dovrò piegarvi a babababababa sarò lì. No, 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 è un altro tipo ovviamente di limitazione, è un altro tipo di interesse, è un altro tipo di compromesso, è un altro tipo di conflitto di interessi. Peccato che mentre il rapporto con l'azienda di un content creator può essere decodificato grazie alla trasparenza, purtroppo noi, come segnalano anche Wes Eugenio, nella mente di content creator non ci potremmo mai entrare, e siccome non hanno il dovere di segnalare, i miei Patreon mi supportano perché ho questi pensieri, perché ho questo determinato nemico, ho questi determinati valori, quindi devo dire questa cosa riguardo a questa cosa qui, siccome nessuno fa questo tipo di operazione trasparenza, tipo prima di ogni video, quelli che mi supportano con gli abbonamenti, con le donazioni, col Patreon, la pensano la maggior parte così. Dovrebbe essere segnalato tanto quanto la segnalazione con l'azienda, però mentre una dinamica passa totalmente in sordina, ed è praticamente accettata da qualunque, i poteri forti, le aziende, i brand, quelli che hanno i soldi, sono i cattivi. Io la penso totalmente del contrario, sponsorizzerei ogni singola azienda che mi permettesse di essere totalmente libero da quello che vogliono le persone, se facessi ancora il content creator in modo professionale. Sì, perché, signori, il vero conflitto di interesse, io ce l'ho col pubblico, perché è dal pubblico che dipendono le mie collaborazioni con le aziende, è dal pubblico che dipendono i miei introiti in termini di visualizzazione e donazioni. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Il vero conflitto di interesse è quello. Nessun content creator rischia l'ossa del collo dicendo delle cose false su un qualcosa, rischiando la reputazione che è quello che lo fa campare, perché non è l'azienda che fa capare il content creator. Il content creator campa grazie alla sua reputazione, alla stima, all'affetto, chiamiamolo come vogliamo, che il suo pubblico nutre per lui e nessuno lo remette a repentaglio. Io sono sicuro che la maggior parte delle sponsorizzazioni, comprese quelle del reddito di NordVPN, sono tutte sponsorizzazioni, metto la mano sul fuoco, credibili di prodotti seri, perché chi li sponsorizza sono, mi sembrano, persone serie, che non vanno a rischiare la loro reputazione per un prodotto che, ne so, ruba i dati, non funziona. E così. Anche quando si parla di food influencer, ad esempio, è certo, io mi fido di alcuni personaggi perché so che hanno detto al loro pubblico nel corso del tempo di determinate cose e non va a pubblicizzare un locale che quando il suo pubblico andrà a provarlo riscontrerà, potrebbe riscontrare tutto il contrario di quello o quella persona, perché perdi l'affezione. Quindi, Eugenio, Uesa, uscite da questo infantilismo, entrate nel mondo dei grandi, quello che fa i compromessi. La differenza tra quando si è giovane e quando si è vecchi, maturi, è proprio questo che ci si libera dalla visione del mondo non infantile, chiamiamo in un altro modo, romantica, dove tutto è facilmente divisibile, dove vivere con gli ideali è ancora alla portata del nostro braccio, e poi però si diventa adulti, si fanno i figli, si si sposa, c'è il mutuo da pagare, la rata della macchina, eccetera, e scopriamo che si può vivere in quel mondo ideale, magari sotto l'ala protettiva e legida della famiglia, dei parenti, dei privilegi, magari, che si hanno. E allora, un bacione dal vostro piccione dell'imello, che anche oggi ha cagato sulla scacchiera e se ne va via, bello tronfio, sicuro di aver vinto. Un saluto a Uesa e Eugenio. Un saluto a tutto. Un saluto a tutti. Grazie a tutti.